Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 8 dicembre, il giorno delle tre manifestazioni, quella a Parigi, quella a Torino dei Notav e quella a Roma dei Leghisti. Ma è il giorno anche di due questioni di cronaca quotidiana, una annunciata, cioè quella di Parigi, iniziano in questi momenti ad esserci gli scontri su quello che sembra che sia una grande manifestazione, non solo popolare ma insomma con qualcuno un po' più fascinoroso e soprattutto una grande cosa di cronaca che riguarda l'Italia, un concerto, sei morti, una mamma e cinque adolescenti in una discoteca italiana per un concerto in cui sembra, secondo le prime ricostruzioni, siano stati venduti più biglietti di quelli dovuti. Ma torniamo anche nella dramma di quello che sta avvenendo dalla notizia fondamentale della giornata che credetici o no, secondo quanto mi riguarda, è quello che sta avvenendo oggi a Parigi. Beh, intanto dobbiamo semplicemente fare un piccolo passo indietro perché dico io Parigi è governata, come la Francia ma soprattutto Parigi, da quel mito che doveva essere dell'Europa, Macron. Allora io non voglio fare il guascone a proposito di francesi e dire beh, insomma qualcuno l'aveva detto che Macron non era tutto questo mito e si capiva sin dal primo momento che Macron era figlio di quell'establishment che aveva un senso attraverso Macron soltanto per fermare il movimento della Le Pen. Vi ricordo che in quei giorni noi celebravamo il sistema elettorale francese per cui, come si legge oggi molto chiaramente nell'intervista di Glucksmann no, scusatemi di qualcuno sul Corriere della Sera con il 24% all'80% dell'Assemblea. A UG a tutti vedo che stanno arrivando un sacco di amici in collegamento. Col 24% dei voti, quindi con una minoranza, sta arrivando all'80% dell'Assemblea. Oggi non è che le cose per Macron vadano tanto peggio. Si ha perso un po' di consenso, dal 24 è passato al 18%, ma pur sempre il suo voto, come si capiva all'epoca e si capisce anche oggi, era un voto contro. Ma Macron ha un altro piccolo problema. Della tragedia di Sanotte ne ho già parlato. Di Macron esiste un altro elemento fondamentale, cioè Macron è, per dare un'idea plastica, è esattamente stato votato da quel pubblico che ieri applaudiva il Presidente della Repubblica, Mattarella, alla scala. E' quello il pubblico di Macron. Quelli che si mettono il cravattino, quelli che sono i smoking, magari si mettono anche le parruge di piete preziose. Quella roba lì è Macron. Quella roba lì è quella che esattamente non piace ai gilet gialli. Ma soprattutto, la cosa che mi piace moltissimo di Macron, è ironico, che Macron doveva essere l'argine contro il fascismo della Le Pen. Poi io vedo ieri le foto degli studenti inginocchiati e misse con le braccia così. E chiedo a voi, se invece di farlo la polizia di Macron, questo lo avesse fatto la polizia della Le Pen, cosa sarebbe successo nel mondo? Che foto avremmo letto su tutti i giornali italiani? Che cosa avremmo visto? I commentatori della minchia oggi su tutti i giornali italiani dicendo la Le Pen fascista, il nazismo ritorna a Parigi, Petain torna a Parigi, il Cile e Pinochet torna a Parigi. Questo avremmo letto. Oggi avete letto tutto questo sui giornali? Sì, qualcosa di questo c'è, ma niente rispetto a quello che sarebbe successo se invece di esserci sto ragazzetto qua, che è il fenomeno dell'europeismo mondiale, ci fosse stata un'elezione di qualcuno che non faceva parte di quel giro. Vi sembra normale quella foto degli studenti? A me sembra una cosa che può succedere e una cosa che non dovrebbe succedere, ma che in mano a Macron viene oggi arrotondata dall'opinione pubblica, che è soltanto quella dei giornali, che a Macron gli permette tutto. L'altra cosa incredibile, stupenda, è che Macron piagnucola e fa piagnucolare i suoi servizi segreti dicendo che siamo vicini a un colpo di Stato. No, il colpo di Stato l'hanno fatto quelli che pensavano di poter governare questo paese, come Macron lo hanno fatto, come sempre avviene con i colpi di Stato in Europa, attraverso un sistema democratico. Cioè l'establishment ha pensato attraverso le elezioni democratiche di riuscire a piazzare Macron. Beh, noi in Italia neanche ne abbiamo fatte le elezioni democratiche, abbiamo piazzato Monti e compagnia cantante. Chiaro, non è che cambia moltissimo. Poi dopo vai dall'altra parte, e so che io non riesco mai ad accontentare nessuno, perché in effetti io non faccio politica e me ne sbatto della politica, però vai dall'altra parte e vedi Laura Castelli. Allora, Laura Castelli, non perché sia laureata, non laureata, sia simpatica o non sia simpatica, in un paese normale Laura Castelli non le fanno fare neanche la segretaria di un dirigente d'azienda, perché una che fa tutti questi casini, non che sia competente o non competente, deve essere presa a calcio nel sedere dal proprio capo. E in questo caso io ho grande stima dei politici, di quelli che dedicano il loro tempo alla politica invece di fare soldi, quattrini, eccetera. Ma Laura Castelli, quando dice, si permette di dire che invece di prendere una panda 1.200, ci potremmo prendere una panda 1.000, oltre a sbagliare, oltre a dimostrare la sua ignoranza completa di economia, così come si è visto con quella lezioncina che ha provato a dare a Padoan, e io ne ho antipatia nei confronti di Laura Castelli doppia, perché una persona come Laura Castelli, con il suo modo di fare, con la sua arroganza intellettuale, cosa fa? Ci fa rivalutare quelli del passato, cioè meglio Padoan della Castelli. E poter dire una cosa di questo tipo è una cosa che è come per Fonzi saper dire scusa, è una cosa che mi fa ribrezzo, io non ci posso pensare di voler preferire Padoan alla Castelli, eppure è così, quando sento questa roba sulla panda dico, ma cosa ci sta a fare questa qua? Tra l'altro la 1.000 neanche si può produrre più, c'è scritto oggi su tutti i giornali, che ovviamente la prendono di mira, prendono un po' meno di mira il Macron e la sua conduzione francese, e molto di più la Castelli, no? Laura Castelli chi è? È un viceministro, Laura Castelli purtroppo, è inutile che facciamo finta di sapere chi non è, chi non è, ha scritto il contratto di governo, Laura Castelli quindi oggi ci spiegano tutti che la panda esiste, 900, non 1.000, e che se si comprasse la panda 900 pagheremo più tasse che pagare sulla panda 1.200, questa è la genialità del Movimento 5 Stelle. Oggi il grillino dell'osso malato di SLA passa a Forza Italia, spiega i motivi sul Corriere della Sera, i grillini gli chiedono 100.000 euro, devo dire che l'intervista al Corriere della Sera dice dell'osso perché non hanno messo i 10 milioni per la disabilità, io adesso in questo senso dico benissimo mettere i 10 milioni della disabilità, poi però ci sono i 10 milioni per i bambini che sono stati abbandonati per il femminicidio che hanno tolto, poi ci sono i 10 milioni per l'associazione che si occupa dei malati terminali, poi ci sono i 10 milioni. Allora voglio dire, se tutti i parlamentari abbandonassero i loro gruppi parlamentari, pure andando a Forza Italia, pure andando alla Lega, perché non gli è passata la loro norma, ma per quanto importante e fondamentale essa sia, insomma devo dire che il Parlamento sarebbe piuttosto liquido, come lo era nel passato, né più né meno. Sto parlando, sto insultando dell'osso, figuratevi un po' voi se posso insultare uno che va ad alimentare le fila della moderazione del centrodestra. Detto questo, e non difendo chi lo insulta, Detto questo, ragazzi, la politica è fatta di compromessi, purtroppo, anche micidiali. Qualcuno mi dice, i due beccati nel bagno? Beh, ci sono due che sono stati beccati nel bagno, l'ho scritto da Gospier, l'ho scritto, scusatemi, Becchis, sul tempo, ad amoreggiare di partiti diversi. Il retroscena che ho letto oggi sul giornale è che ci sarebbero i due nomi, e ci sarebbe un applauso quando entrano in aura. Tutte minchiate che scrivono i giornali per farsi qualche lettore in più sull'unica cosa divertente in queste ore. Franco dice, viva la panda, c'è assolutamente ragione, viva WWF. E sugli applausi alla scala a Mattarella? Beh, insomma, l'ho già detto un po' prima, il pezzo più bello oggi è quello di Gnocchi, che ci dice il significato politico, che ovviamente c'era in quell'applauso di 5 minuti alla scala. Poi leggete Marzio Breda, oggi sul Corriere della Sera, che è una specie di, come possiamo dire, di orgasmo nei confronti del suo Dante Causa, perché Marzio Breda è sempre lo scrittore, è il Quirinalista, quindi quando c'è qualcuno al Quirinale, bianco, rosso, verde, è sempre un mito, e dice, e ci fa capire cosa sono 5 minuti, sono 3.000 secondi, che sono lunghissimi, questo popolo pazzo di Mattarella. Una cosa non dicono tutti quelli che sono impazziti per l'applauso a Mattarella, ma chi lo sta applaudendo Mattarella? Il popolo italiano? Il popolo italiano sta applaudendo Mattarella, a posto che io penso che stia facendo molto bene il Presidente della Repubblica, e che sia molto equilibrato nel suo comportamento, beh, dico ragazzi, però veramente non ci facciamo prendere per i fondelli, cioè il popolo italiano non è quello che sta alla scala, alla prima della scala, ci vorrebbe qualcuno che alzasse il ditino e dicesse, ragazzi, giornalisti dei miei stivali, se continuate a dire che il popolo italiano è quello che sta nelle vostre relazioni, quello che va alla scala, quello che vedete alle conferenze stampa, non capite questo paese, motivo per il quale ci saranno sempre i gilet gialli, ci saranno sempre i leghisti, ci sarà il Movimento 5 Stelle, tutta gente che prende le maggioranze del paese, mentre voi pensate che la maggioranza del paese sia quella che si forma alla prima della scala. È brutta la prima della scala? No. È fico andare a vedere la scala? Sì. È bello esibire gioielli e avere lo smoking? Sì. Non ho nulla di pauperista, non sono tra quelli che buttano le uova contro quelli che fanno la scala. Anzi, anzi, bene, il lusso mi fa piacere, ma pensare che quella sia l'Italia è soltanto un pregiudizio di quattro giornalisti che non sanno cosa scrivere. Il fake quotidiano, diretto dallo stellone del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, oggi celebra con una grande copertina ovviamente il suo partito, cioè quello della No Tav e della manifestazione che ci sarà oggi a Torino. Sempre, come possiamo dire, nel senso dell'indipendenza. Il giornale, di cui io faccio il vice direttore, fa, come possiamo dire, le paginate su Berlusconi e sulle manifestazioni, non so, di Berlusconi a Roma e loro le fanno su quelle dei No Tav a Torino. Ognuno sappia cosa va a comprare, né più né meno. Di Maio scrive una lettera al Sole 24 Ore guidato dalla Confindustria con cui ha litigato nei giorni scorsi e dice lavoriamo insieme sulle PMI. Nicola, se vedi in giro Monti e St. Moritz e De Benedetti ce lo dici? Spero che mi guardino. Di fatti io penso che Monti non voglia venire, l'abbiamo invitato tante volte, vi do questo piccolo retroscena, l'abbiamo invitato tante volte a Quarta Repubblica e non vuole venire a Quarta Repubblica. Qualcuno di voi gli potrebbe dire a Monti che Quarta Repubblica come tutte le programmi che io faccio è molto diversa dalla zuppa, non che io poi sia interessato di avere nessuno. Se vogliono venire vengono, se no me ne farò una ragione. Ma il punto fondamentale come molti di voi tra l'altro mi accusano è sulla zuppa c'è una libertà tale anche un po' come possiamo dire non di insulto ma di irriverenza che non posso avere in televisione dove tutti quanti debbono essere rispettati. Qua me ne fottò, chiaro? Torino ok, è vero, c'è ragione, Roma è a Roma, nel frattempo ci sono i leghisti che arriveranno e faranno una grandissima manifestazione che secondo loro dovrebbero essere centomila persone a Roma, ci sono Pullman, vedremo quello che succede. Sono le tre manifestazioni di oggi, Parigi, che vedrete sarà un bel casino, Torino, Coino Tav, per quanto mi riguarda, è roba del feco quotidiano, e Roma, in cui c'è i leghisti. Certo, Tina, che Torino ha bisogno della Tav, ma non solo Torino, tutta l'Italia. Salvini viene intervistato dal messaggero e dice che questa manovra potrà cambiare ma dovrà cambiare per pochi decimali, cioè non sono i decimali a rendere la manovra buona o cattiva. Su Repubblica, invece, il reddito subito è una delle richieste che sta chiedendo il Movimento 5 Stelle. Io direi che per oggi è tutto, per oggi è una giornata davvero da informarsi, da vedere quello che avviene. Lo vedremo, ovviamente, oggi sul sito nicolaporro.it e 100.000 come il PD, non so cosa sia, fai una sciata per me e oggi vediamo se riusciamo e vi do appuntamento, come sempre, alla zuppa di domani e al sito nicolaporro.it per tutto quello che avviene in giornata. Ciao! Ciao!